Oggi il premio speciale Sorriso Diverso, Roma Award per le opere con tematiche sociali. Presidente Diego Righini è andato a Liliana Segre, a regista Ruggero Gabai per il documentario Liliana. Miglior film italiano, Non dirmi che hai paura, la storia di una ragazza somala morta nel Mediterraneo e miglior film straniero, About Lewis. Ma oltre ai red carpet e alle premiazioni continuano le...